Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. La Corte Europea dei diritti dell'uomo le ha dato ragione. Così un affemont si vedrà risarcire dalla giustizia francese 9.800 euro a seguito della condanna subita per aver profanato nel 2013 la chiesa di Santa Maria Maddalena a Parigi. Quel giorno la donna in topless con indosso una corona di spine e un velo azzurro si pose davanti all'altare al tabernacolo tenendo tra le mani due pezzi di fegato di bue per simulare l'aborto di Cristo da parte della Vergine. Sul suo petto era scritto il Natale è cancellato e altri slogan blasfemi. Secondo la Corte dei diritti dell'uomo però il raccapricciante gesto rientrerebbe nella libertà di espressione poiché l'unico scopo della donna sarebbe stato quello non di offendere gratuitamente la sensibilità religiosa dei fedeli cattolici bensì di contribuire al dibattito pubblico sui diritti delle donne più specificamente su quello all'aborto rimproverando anche i tribunali francesi di non avere tenuto conto di questa distinzione e di aver inflitto alla donna una pena giudicata severa vale a dire un solo mese di reclusione con la sospensione della pena e una multa di 2.000 euro. È divenuto ormai una triste consuetudine quella della Corte Europea dei diritti dell'uomo di difendere attacchi, insulti e profanazioni contro la Chiesa. Nel 2018 la Corte ha condannato la Lituania per aver sanzionato pubblicità blasfeme con Cristo e la Madonna benché, sempre quell'anno, abbia confermato una condanna penale a un docente austriaco reo di aver equiparato la pedofilia, la relazione sessuale tra Maometto e la piccola Aisha dei soli nove anni. In questo caso, secondo la Corte, l'insegnante non sarebbe stato obiettivo anzi avrebbe compiuto una generalizzazione atta a dimostrare per quali ragioni Maometto non sia degno di culto e che avrebbe potuto suscitare una giustificata indignazione nei fedeli islamici. Tutto questo avrebbe rappresentato pertanto una maliziosa violazione dello spirito di tolleranza che è alla base della società democratica, avrebbe potuto suscitare pregiudizi e mettere in pericolo la pace religiosa. Risale infine solo un mese fa la sentenza con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che la condanna per blasfemia, inflitta la pop star polacca Doda, avrebbe violato il suo diritto d'espressione. Insomma, profanare un altare cattolico sarebbe libertà d'espressione, approfondire gli adit della fede islamica sarebbe criminale. L'attacco blasfemo di una femminista in una chiesa o di una cantante sul palco rappresenterebbero un contributo al dibattito pubblico sui diritti delle donne, mentre indossare simboli religiosi visibili sul lavoro sarebbe un reato, come deciso ribadito, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il criterio dei due pesi e due misure seguito dai vertici europei è evidente, assurdo, discriminatorio e quindi questo sì odioso e foriero di incitazione all'odio. Ma proprio alla Polonia aggiunge ancora una volta la speranza, in particolare con la proposta di legge presentata dal partito Polonia Unita, Solidarna Posca, che prevede il carcere fino a tre anni per chiunque offenda o ridicolizzi pubblicamente la chiesa. Secondo il ministro di giustizia Zdigniew Ziobro, per attuare pienamente la libertà di religione è necessario modificare il codice penale, che oggi non garantisce sufficientemente la protezione dei credenti. In Polonia è già un reato penale punibile fino a due anni di reclusione, quello di offendere i sentimenti religiosi di altri, insultando pubblicamente un oggetto di culto religioso o un luogo destinato alla celebrazione pubblica a diritti religiosi. Tale norma ora potrebbe essere inasprita. Anche il principale partito di governo, diritto e giustizia infatti, ritiene la proposta di legge in linea con i valori che condividiamo. Contraria invece prevedibilmente la sinistra, che si schiera dalla parte dei facinorosi. Se questo emendamento entrerà in vigore, ha dichiarato un suo esponente, l'onorevole Joanna Schoening-Wilgus, chiunque ad esempio ponga a Maria Vergine un aureole arcobaleno LGBT o protesti in una chiesa, come abbiamo fatto io e il mio marito, verrà punito col carcere. Esattamente. Si noti che da un paio d'anni il leader di Polonia Unita, nonché ministro di giustizia Zdigniew Ziobro, sta cercando di far levare all'onorevole Schoening-Wilgus l'unico scudo che finora la sottratta la condanna, ovvero l'immunità parlamentare, per farla giudicare circa le accuse di offese ai sentimenti religiosi e ostacolo doloso a un atto religioso, proprio per aver protestato in chiesa contro la norma polacca sull'aborto. Sarebbe ora che venisse ribadito in tutte le sedi, soprattutto in quelle istituzionali, un doveroso rispetto verso la fede altrui, in particolar modo quando questa, nei secoli, abbia costruito la storia, la morale, il diritto e la cultura dall'intera Europa. Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.